buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da asti e provincia il geometra nicese graziano traversa professionista molto attivo in ambito locale nonché presidente della sezione nicese anc e di recente entrato a far parte del collegio provinciale dei geometri con 49 voti ha avuto la meglio sugli altri candidati durante le elezioni suppletive successive alla scomparsa del consigliere enzo valpreda incidente nella mattinata di ieri intorno alle 8 in frazione casa bianca di asti una ragazza che stava andando a lavorare in bici è stata ortata da un'auto che si è immediatamente fermata il cui conducente ha chiamato i soccorsi sul posto un'ambulanza per verificare le condizioni della ragazza sbalzata dal sellino della bici per fortuna non sono state invenute ferite gravi nizza annullata l'edizione 2021 della corsa delle botti assessore lovisolo fino all'ultimo abbiamo valutato la possibilità di organizzare qualcosa di alternativo e con questa notizia è tutto un saluto ringraziamento da parte della nuova provincia asti e suo giornale e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.